Lei è favorevole o contrario alla DAD? Allora, in questo momento io credo che la DAD sia un'opportunità da non scartare, a prescindere anche perché siamo nella quarta ondata, ancora non abbiamo raggiunto il picco e anche questa stessa campagna vaccinale è appena all'inizio. Prima che il vaccino possa avere effetto dovranno passare meno 15 giorni. Io credo che sia opportuno, ho sottoscritto anche io la richiesta a livello nazionale per sospendere l'attività didattica in presenza a meno fine a fine mese, quindi valutare anche le conseguenze di queste festività che abbiamo appena vissuto, chiaramente con maggiore libertà probabilmente, e quindi poi poter rispondere con la dovuta calma e ponderazione anche alle esigenze che riscontreremo in corso d'opera.